Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi da il benvenuto a questo breve video. In questo video oggi vi farò una semplice domanda. Come ben sapete, giovedì verrà mostrato il primo gameplay di Destiny 2. Per chi volesse seguire e seguirmi, io sarò a regola in streaming su Twitch, insieme a Detaurazioni d'Italia ovviamente. Probabilmente ci saranno vari ospiti con noi. Ora dello streaming italiana ore 18, quindi il tutto inizierà alle 18. Non mancate, ovviamente dovete seguire la diretta originale, la troverete sul canale di Banshee. Quello che vi chiedo io è, cosa vi aspettate dal punto di vista della lore da Destiny 2? Come vi piacerebbe che fosse la storia di Destiny 2? Quali personaggi piacerebbe vedere approfonditi in maniera più dettagliata? Ovviamente dopo il gameplay cercherò di analizzarlo il più possibile dal punto di vista della narrazione. Magari vedere qualche spunto relativo alla trama che appunto questo piccolo gameplay, piccolo o meglio insomma quanto sarà io stimolo durante i 10-15 minuti, ci potrà offrire in modo da poter magari già cogliere qualche elemento interessante sulla trama di questo attesissimo secondo capitolo. Vi invito quindi a rispondere a questa domanda, voglio un po' farvi un'idea di cosa la community si aspetta da questo secondo titolo, e in particolare la community che mi segue essendo un canale prettamente dedicato alla lore. Insomma so benissimo cosa si aspetta dalla community dal punto di vista del gameplay, dei giochi in generale, quindi un miglioramento dei server, magari una migliore personalizzazione del personaggio, abilità più dettagliate eccetera, ma qua vi chiedo appunto specificatamente relativo alla narrazione, alla trama, alla lore e in definitiva i personaggi. Rispondetemi appunto in un numero più alto possibile, magari nasce anche un bel dibattito, un bel confronto, e vi saluto insomma sperando di potervi portare già per venerdì, quindi in gioco la streaming, un'analisi della lore, dal punto di vista della lore, scusate, del gameplay che ci verrà mostrato. Rispondete e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!